ho subito detto li ho detto li che sono riusciti il cazzo comunque anche la prima prima c'era una cosa meravigliosa vabbè in sostanza poi gli dico vai giù in vale scura dico sai dove c'è la cinta dei tartufi non l'altro la banda e dico guarda un pochettino io su quella spalla lì infatti poi ci sono poi a casaleggio l'avevano fatto l'avevano fatto lì